Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e il quarto sino ad oggi dell'amministrazione d'Alberto. Il documento è stato votato favorevolmente da 21 consiglieri, un'ampia maggioranza dunque, che ha compreso i 5 Stelle e il nuovo gruppo di azione. Nel bilancio del Comune di Teramo per i prossimi due anni viene confermato un rassicurante fondo di cassa e si prevedono oltre 50 milioni di euro di entrata in conto capitale che andranno a finanziare importanti opere pubbliche volte a ridisegnare il volto futuro della città. Inoltre nel bilancio non sono previsti aumenti di tasse e tariffe nonostante i rincari per le utenze e la mancata sospensione dei mutui e viene inoltre garantita la continuità di tutti i servizi. Nel corso del Consiglio Comunale l'amministrazione guidata dal Sindaco d'Alberto ha ricordato alcuni passaggi fondamentali previsti per la Teramo del futuro che si stanno realizzando sotto gli occhi dei cittadini, la riqualificazione del teatro romano, il mercato coperto, il parco fluviale, la messa in sicurezza delle scuole. Non la pensa così l'opposizione di centrodestra che è invece accusato d'Alberto di poca concretezza, richiamando l'attenzione sul fatto che in città non ci siano per esempio cantieri della ricostruzione. Oltre al bilancio di previsione il Consiglio Comunale di Teramo ha anche approvato la retrocessione dei terreni edificabili su richiesta dei proprietari e l'istituzione di un nuovo ITS, Istituto Tecnico Superiore a Mociano, con indirizzo Turismo e Cultura. Al termine della Sise il Sindaco di Teramo e Presidente Anci ha annunciato l'apertura di uno sportello sociale per la pace che crei una rete di accoglienza con privati e istituzioni e una raccolta di cibi a lunga conservazione, medicine e beni di prima necessità da inviare in Ucraina.